salve sono tornato ancora per presentarti una linea assolutamente nuova coxe ha realizzato una serie di modelli in grado di piacere veramente all'universo femminile siamo riusciti in quest'opera dando molta importanza alla forma e alla vestibilità dei modelli poi abbiamo unito la naturalezza del cotone all'elasticità dello spandex un materiale assolutamente innovativo facili da personalizzare morbidi resistenti elastici chi poteva fare questo se non il più grande produttore italiano di t-shirt scegli coxe scegli la qualità italiana i modelli da donna coxe sono ancora più femminili merito di piccoli accorgimenti che hanno migliorato la vestibilità e lo stile questa ad esempio è agadir partiamo dal materiale al cotone è stato aggiunto una piccola parte di spandex il risultato è un capo elastico e naturale perché mantiene il 95% di cotone ed è delicato sulla pelle con una silhouette slim fit e un taglio leggermente più lungo molto alla moda lo scollo è ampio profondo lo stesso vale per dubai la pratica canotta con cucitura singola al collo e al giro manica sana presenta invece un profondo scollo a v con maniche lunghe e cucitura doppia al polso tutti e tre gli articoli sono disponibili in cinque taglie dalla xs alla xl e quattro colori scegli coxe scegli la qualità italiana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti